In provincia di Pescara sono attive 7.000 imprese artigiane che danno lavoro a 15.000 dipendenti. Per venire incontro alle loro necessità, la CGL ha attivato da questa mattina presso la sua sede, via Benedetto Croce, un apposito sportello. Uno sportello dedicato alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori artigiani. Si tratta di un servizio informativo ed operativo, come conferma il segretario generale della CGL Pescara, Luca Undifero. Sì, da oggi apriamo questo sportello in CGL a Pescara, nella sede di via Benedetto Croce, perché pensiamo che sia giusto fornire un servizio al mondo dell'artigianato, un mondo che apparentemente non ha numeri oppure non se ne sente parlare molto, ma invece nasconde delle verità che probabilmente sono anche poco note. Se pensiamo per esempio che nella provincia di Pescara ci sono 7.000 imprese artigiane nei vari settori e occupano 15.000 lavoratori, allora forse sia un'idea migliore del mondo di cui stiamo parlando, un mondo poco ascoltato. Noi come CGL vogliamo dare rappresentanza ai lavoratori del mondo dell'artigianato attraverso questo sportello che oggi apriamo, uno sportello che si pone l'obiettivo di salute e sicurezza, è il primo obiettivo che ci poniamo, sia di dare tutte le informazioni ma anche la formazione attraverso gli enti bilaterali che sono legati al mondo dell'artigianato, perché i lavoratori è giusto che siano ben informati e informati su quali sono le normative sulla sicurezza, su quali debbano essere gli strumenti protettivi, le misure da adottare per evitare purtroppo quelle che sono dei casi di infortunio e anche a volte di morte. Lo sportello, aggiunto ancora ondifero, sarà attivo il lunedì e giovedì dalle 16 alle 18 e 30, mentre il martedì dalle 9 alle ore 12 e 30. Attraverso gli enti bilaterali che sono del settore dell'artigianato, i lavoratori possono accedere anche a una serie di prestazioni che sono sconosciute, ma che attraverso queste forme contrattuali che esistono anche a livello regionale, oltre che a livello nazionale, lo sportello si pone l'obiettivo di fare in modo che questi lavoratori possono accedere a dei rimborsi, a dei recuperi di prestazioni che altrimenti non avrebbero.